Io sono davanti al centro elaborazione dati e statistiche della regione Puglia, tra poco potremo approfittare dei primi exit poll, quindi seguitemi e andiamo a prenderli senza indugi. Ecco, gli exit poll direi che sono quasi pronti, potete vederli. Per adesso hanno ancora un andamento abbastanza sparso, è difficile al momento fare delle proiezioni, ma sono sicuro che molto presto si raccoglieranno. Gli esperti hanno lavorato tutto il pomeriggio e tutta la notte, hanno lavorato davvero molto e noi di Antena Sud possiamo offrirveli in anteprima. Ecco i primi exit poll, prendeteli un po' per quello che sono, naturalmente disordinati, selvaggi, rustici direi, ma siamo sicuri che avremo fatto un buon servizio.